L'Ocean Viking, la nave di soccorso di SOS Mediterranea, ha portato a termine la sua più grande operazione nel Mediterraneo, raccogliendo oltre 600 migranti in 15 interventi nel corso di 48 ore. La maggior parte delle operazioni si è svolta a largo della Tunisia. Sabato sera sono terminate le operazioni di soccorso per i 369 migranti arrivati a Porto Empedocle e per i 60 soccorsi dalla nave Astral della ONG spagnola Open Arms. Tuttora in corso le operazioni di trasferimento dei migranti dall'hotspot di Lampedusa, fino a sabato erano oltre 2000, e dall'area di transito di Porto Empedocle, altri 1000. I migranti provengono soprattutto da Sudan, Guinea, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Benin e Bangladesh. La Ocean Viking è in direzione Civitavecchia, assegnata dalle autorità italiane come porto sicuro per lo sbarco dei restanti 250 migranti a bordo. In altri interventi, 76 migranti, tra cui una bimba di meno di un anno, sono stati soccorsi a largo di Malta da Life Support, la nave dell'ONG Emergency.